Cosa? Ha detto proprio così? No, dai, non ci credo! Dici sul serio! Che ti diceva di così incredibile? Gli uccellini conoscono tutti gli ultimi pettegoni... A momenti facevi un bel ruzzolone, Aira! Devi fare più attenzione! E tu, Ramu, non voglio più vederti fare questi scherzi! Siamo intesi? Beh, avete visto anche voi, no? Voglio dire, è successo qualcosa? O era normale come sempre? Forse non era normale! Insomma, Farron e io siamo amici, lo siamo sempre stati! E' carino, siamo entrambi carini, sono tutti carini! D'accordo, non è successo niente! Qualcosa è successo e come? Un po' troppo zuccherosa! La mela, voglio dire! Che c'è? Volevate chiedermi qualcosa? Ehi, voi, sentite! Venite a dare un'occhiata a questa farfalla, è uno spettacolo! Io vado a vedere cos'è quel terriccio laggiù! Insomma, che succede, Aira? Tra te e Farron c'è qualcosa? Io non lo so, anzi penso di no, ma se qualcosa ci fosse, che dovrei fare? Che dici, Emily? Beh, io non sono proprio un'esperta, ma mi ricordo un vecchio film su questo argomento! C'era una scena in cui una ragazza non era sicura dei sentimenti di un ragazzo, così faceva una prova! Lasciava cadere il fazzoletto per vedere se il ragazzo l'avrebbe raccolto! Ti ho sentita, Miss Spray! Ho sempre pensato che le noccioline siano soprappalorate! Io preferisco gli anacardi! Oh, ma questo vento improvviso è... Beh, non ha funzionato! Aira, non è esattamente quello che... Quei tuoi braccialetti! Prova a lanciargli lì! Ma che sta succedendo? Lo stai mettendo alla prova troppo duramente, in senso letterale! Uno dei braccialetti l'ha colpito in faccia! Aira, ascolta, ti ripeto che non è così! Ti ho idea, fiori, quelli non sono pesanti! Grande idea! Ha superato la prova o no? Non l'ho capito! La magia va bene! A me piace come a qualunque altro elfo, ma non dovremmo usarla per farci scherzi a vicenda! Caspita, è meraviglioso! Questo è il ponte più incredibile che abbia mai visto! Sai, i ponti di ghiaccio arcobaleno possono essere piuttosto scivolosi! Va bene, lo confesso! Ho provato un pizzico di gelosia quando Farran ha tenuto Emily, ma non devo! Siamo amiche, giusto? E siamo anche una grande squadra che io non voglio rovinare con una sciocca cottarella! Le amiche sono molto più importanti delle romanticherie con i maschi! Vorrei essere molto, molto chiara, quella storia di Farran che mi ha tenuta su non vuol dire niente! Se non che sono un po' imbranata e a volte ho bisogno di aiuto anche per le cose più semplici, come camminare! E stare seduta, a quanto pare? Siamo amiche! E lo siamo anche se qualcuna si prende una cotta! L'amicizia è più importante dei ragazzi! Da dove è spuntato quest'albero? La prossima volta potreste avvertirmi, Miss Spray? Allora, questa cosa non è mai successa, anzi, non so neanche cosa è questa cosa! Forse è una cotta o... Ecco, io... Wow! Wow!